Chi sono e perché dobbiamo saper guardare e non girare la testa dall'altra parte, i poveri. Ci piaccia o non ci piaccia, il centro del Vangelo sono i poveri. E noi cristiani non possiamo far finta di niente. Nemmeno l'uomo non credente o diversamente credente può non far finta di niente perché ha in sé il senso dell'umanità. Tutti gli uomini, e la storia è piena, tutti gli uomini sono capaci di fare il bene, anche quelli che fanno il male. Se cambiano, poi si convertono e trasformano la loro vita e il loro male commesso in bene. Da oggi mi voglio far aiutare da un vecchio amico che ci ha sempre accompagnato in dritto al cuore, fra Emiliano Antenucci. Fra Emiliano, questo cappuccino, che sta portando in giro la devozione alla Madonna del Silenzio, tanto raccomandata e di cui è tanto devoto anche Papa Francesco, questo frate minore cappuccino, che sta in Abruzzo, bene, ha scritto di recente un libro che si chiama Gli ultimi saranno i primi. In questo testo, nel suo stile, come dire, immediato, concreto, ma anche in uno stile in cui ci offre delle chicche di spiritualità e di umanità e di saggezza umana e di sapienza evangelica, fra Emiliano racconta, potremmo dire, i suoi fatti di misericordia. Fra Emiliano è uno dei missionari della misericordia e quindi ci aiuta ed è importante, perciò ho scelto anche questo suo testo dopo aver utilizzato tanti i suoi testi, perché sono fatti di vita, sono fatti concreti, non sono teoria, ma sono anzitutto un credo che poi si esplica nella vita. Se credere vuol dire vivere, ecco, la vita del credente è una vita non accartocciata su se stessa, ma di, direi, squarciata, sì, lasciatemi passare questo termine, squarciata, aperta, sugli altri, su chi è solo, su quello che noi normalmente o su quelli che noi in genere definiamo con la parola ultimi. Ma ultimi, come ho già avuto modo di vedere e di, non solo di vedere e di sperimentare, ma anche di dirvi, ultimi siamo un po' tutti, anche io sono un ultimo. Ma chi sono gli ultimi? Vi leggo quello che un regista, attore, scrittore pugliese, Pino Petruzzelli, ha scritto in un libro che si chiama appunto Gli ultimi. Gli ultimi sono tutti coloro che non rientrano negli schemi, che vengono escluse dalle masse, non solo perché sono poveri. Gli ultimi sono l'ultima barriera di una umanità che resiste contro le barbarie delle mode, dei pensieri e degli stili di vita di quello sciame inquieto di consumatori che popola le nostre strade. Gli ultimi sono quelli che ritengono i banchieri più pericolosi degli zingheri. Vedete come già capiamo che gli ultimi non sono soltanto i senza tetto, quelli che non hanno cibo, gli ultimi non sono soltanto quelli che vivono nelle zone povere del mondo, ma sono e siamo un po' tutti. Ma continuiamo domani Padre Pio TV Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!